I cottage inglesi sono da sempre fonte di ispirazione per chi ama l'interior design. Le loro atmosfere accoglienti e rilassanti, create da un sapiente mix di materiali naturali, colori pastello e dettagli floreali, sono un grado di conquistare chiunque. I materiali naturali sono un elemento essenziale nell'interior design dei cottage inglesi. Il legno, la pietra e il cotone creano un'atmosfera calda e accogliente che invita il relax. Il legno, in particolare, è il materiale più utilizzato per la costruzione dei cottage inglesi. Le travi a vista, i soffitti in legno e i mobili in legno massello contribuiscono a creare un'atmosfera rustica e confortevole. I colori pastello, poi, sono importanti per l'interior design dei cottage inglesi. Questi colori delicati e luminosi creano un'atmosfera romantica e sognante. Il rosa cipria, il verde salvia e il blu cero sono tra i colori più utilizzati. I dettagli floreali, come le composizioni florali fresche o artificiali, completano l'atmosfera romantica e raffinata dei cottage inglesi. I cottage inglesi sono progettati per essere luoghi confortevoli e rilassanti. Per questo motivo è importante scegliere i mobili che siano comodi e accoglienti. I mobili in legno massello, in stile shabby chic o vintage, sono tra le scelte più comuni. I tessuti naturali, come il cotone, il lino e la lana, contribuiscono a creare un'atmosfera ancora più confortevole. a creare un'atmosfera a creare un'atmosfera. A creare un'atmosfera a creare un'atmosfera. A creare un'atmosfera a creare un'atmosfera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.